Un processo industriale complesso, futuristico per quella che è la nostra situazione. Io sorridero anche di mattina, guardando quelle banchine per giardini che sono. Che cosa significherebbe per noi poterle aiutare i nostri giardini? Maggiare cattore e si fa le banchine dei suoi giardini quando mi ha passato da voi. C'è un tasto che a questo punto si presenta la questione a queste ore. Secondo me, Giulio, che credo continuerà con me l'assessore Pasquale Mignola, visto tanto la parola, che è il più giovane assessore della Finanza di Cattoria, ma io una volta che ho fatto una cosa, ho detto, speriamo che la gente si chiude in presto, perché questa settimana è sempre il piatto, quindi finire anche io a te. Per lui, ringrazio i dirigenti, assessore ambienti del Cittadio Nato Esposito e anche il direttore tecnico di Cattoria Ambientica, il migraccio operativo del Comune di Cittadio Antonio Pizzotto. Do la parola all'assessore Pasquale Mignola. Grazie.